Il terremoto di due settimane fa nel Basso Molise ha messo in ginocchio soprattutto le attività turistiche e commerciali, di piccole realtà già in crisi. Bagni vietati nei lidi di Riovivo per la presenza di eccessivi batteri nel tratto di mare antistante la località termolese, gli scarichi reflui sono irresponsabili. L'ambito territoriale di Venafro ha pubblicato l'avviso di concessione dei voucher in favore delle giovani donne in età lavorativa. La dieta mediterranea si può ben considerare salvavita per le persone avanti negli anni, le ricerche del Neuromed confermano i giudizi positivi. Un cordiale saluto dalla redazione di TLT, il terremoto oltre a causare danni agli immobili ha messo in ginocchio un settore già in difficoltà, parliamo quello del turismo, un danno economico rilevante per numerose imprese, alberghiere e attività commerciali. Non bastassero le criticità legate allo stato delle infrastrutture viarie, la chiusura della rete ferroviaria da Termoli a Campobasso, il taglio dei servizi essenziali e lo spopolamento. In Basso Molise le imprese e i comuni devono fare i conti anche con il netto calo di turisti che si è registrato dopo il sisma di metà agosto. Di fatto, già dopo la forte scossa di magnitudo 5.2 del 16 agosto, in tanti sono fuggiti dalle strutture ricettive prenotate per il periodo di ferragosto. Stesso discorso per le abitazioni residenziali, rimaste praticamente deserte, e così le piazze dei borghi, che nel periodo estivo abitualmente riprendono vita, si sono improvvisamente svuotate. Un danno economico enorme, tenuto conto degli sforzi compiuti da commercianti e imprenditori in un territorio nel quale dalle istituzioni non è mai arrivato alcun tipo di sostegno reale. Proprio in uno dei centri più colpiti dal terremoto, e precisamente a Monte Cirfone, abbiamo incontrato un proprietario di un B&B che ha voluto esternare le sue preoccupazioni anche in prospettiva futura. Via di notte, di notte. Adesso c'è qualcuno evacuato, anzi fu qualche amico che mi sono offerto, volontario, ha detto vieni a stare qua perché non c'è casa, l'hanno certe persone che stanno vicino al serbatoio. Più ieri sera è morta pure un'altra signora che c'è la casa, inagibile. Diciamo che la sua speranza era anche chiaramente di investire nel settore turistico, tenuto conto che Monte Cirfone è a pochissimi chilometri dalla costa. Noi abbiamo fatto una grande lotta da vent'anni per avere questa viabilità che si raggiunge la costa, che sono 15 chilometri. Ora che siamo riusciti a ottenere, stanno lavorando, la strada lo stanno allargando e tu con 5 minuti stai al mare, ci ha penalizzato il terremoto. Adesso ho proprio perso tutta la fiducia del paese perché ci troviamo in un bellissimo posto come posizione geografica, abbiamo 80 ettari di bosco a 15 chilometri dal mare, a 7 chilometri dalla via come posizione geografica, è una meraviglia. Però non so il futuro che il turismo si è. C'è anche il timore in questo momento di restare soli, davanti a questo che chiaramente è un evento drammatico per una piccola comunità come la vostra. Dammatico sì, è drammatico sì. Speriamo che passerà. Sempre più critica la condizione delle imprese di costruzioni impegnate nel completamento della ricostruzione post-ISMA 2002. Le ultime erogazioni dello Stato alla Regione Molise, sostiene l'Associazione dei Costruttori, risalgono a dicembre dello scorso anno. Si chiede alle imprese di ultimare i lavori entro il 31 dicembre senza che queste però abbiano ricevute le aspettanze pregresse. Per questo annuncia l'ACEM, considerato che è imminente il trasferimento dal Governo di 26 milioni alla Regione per rendicontazioni già effettuate, chiediamo che le somme siano interamente corrisposte all'Agenzia di ricostruzione liquidate alle imprese. E continua il nostro viaggio all'interno dei paesi colpiti dal sisma. Siamo stati a Tavenna dove abbiamo incontrato il sindaco Simone Spadanuda. Spadanuda. La necessità primaria qui è legata alla messa in sicurezza del serbatoio idrico, così come ha dichiarato nel corso dell'ultimo Consiglio regionale il Presidente della Giunta, Donato Toma. Fortunatamente il serbatoio di Tavenna non dovrà essere abbattuto come nel caso di Monte Cirfone, dove il rischio crollo della struttura ha costretto il primo cittadino Franco Pallotta a fare evacuare l'intera zona circostante. Anche a Tavenna è stata allestita una mini tendopoli che assicura assistenza anche psicologica alle poche famiglie sfollate. Ai nostri microfoni il giovane sindaco Simone Spadanuda si è fatto portavoce delle istanze della sua comunità. Abbiamo ancora una tendopoli in atto, abbiamo purtroppo qualche sfollato ancora perché abbiamo visto che anche il serbatoio comunale è inagibile, essendo una struttura di grandi dimensioni potrebbe provocare dei danni anche alle case adiacenti e quindi siamo stati costretti a fare delle ordinanze di sgombero e quindi delle famiglie purtroppo sono ancora o nelle tende o a casa di amici e parenti. Il terremoto ha accenduato quelle che erano già delle situazioni pericolose, come ad esempio le due chiese che comunque erano strutture un po' datate che avevano già qualche problema di infiltrazione. Con il terremoto, con le scosse, si sono acuite quelle che erano già delle situazioni conosciute. Il Cus Molise, da sempre attento anche al sociale, è vicino alle persone meno fortunate. Domani sarà presente una delegazione di ragazzi che farà visita ai bambini dell'attendopoli di Palata, zona recentemente interessata dalle scosse. In Molise occorre una rete viaria sicura e adeguata ai tempi, maggiori competenze all'ANAS, ma con nuove assunzioni e risorse finanziarie. Urge un tavolo tecnico con le istituzioni. La situazione infrastrutturale del Molise è al collasso. Il sistema viario è costantemente messo a dura prova, spesso da dissesti idrogeologici, e le risorse economiche sono sempre più ridotte. A parlarne Carmine Battaglia, segretario generale della UILP ANAS regionale. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, proprio per via dei tagli, continua battaglia, sono diminuite, con perdita di posti di lavoro e aumento dei rischi per la sicurezza degli utenti della strada. In particolare Biferina e Trinina sono obsolete. I viadotti, compreso quello del Liscione, necessitano di interventi. È dunque evidente il ruolo di centralità dell'ANAS, che deve avere un presidio sul territorio con uomini e mezzi, con la presenza di un coordinamento a carattere regionale, in grado di prendere decisioni immediate e organizzare attività necessarie. Occorrono pertanto azioni sinergiche ed investimenti rilevanti ed un tavolo tecnico permanente composto da regione, ANAS, province e parti sociali. Per il sindacalista servono nuove assunzioni, tecnici ed operatori specializzati. Anche per il segretario generale aggiunto della Cisla, Abruzzo Molise, Giovanni Notaro, il Molise ha urgente bisogno di una rete viaria sicura ed adeguata ai tempi. La regione necessita di infrastrutture che la rendano competitiva. Le proposte di creare arterie alternative, ribadisce Notaro, vanno considerate. Urge quindi l'avvio di un confronto serio che porti in tempi rapidi a decisioni concrete. Gli ingegneri dell'Università del Molise hanno consegnato al Comune di Campobasso la relazione di vulnerabilità sismica sull'asilo nido di via Iezza, edificio che presenta criticità poiché le nuove norme antisismiche non sono state eseguite. Pur essendo stato realizzato più di recente rispetto alle altre due scuole materne della città, l'asilo di via Iezza non risponde ai criteri antisismici di legge. Torniamo sul mare. Batteri inquinanti a Riovivo di Termoli. Da Palazzo Sant'Antonio gli amministratori firmano il divieto di balneazione. L'ARPA valuta altri campionamenti. Vediamo. Nel tratto di spiaggia di Riovivo a Termoli, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha rilevato il superamento dei parametri relative ai batteri Enterococchi ed Escherichia-Coli. Per preservare la sicurezza dei villeggianti, l'amministrazione municipale ha ordinato il divieto di balneazione per il tratto di Adriatico. indicato le cause dell'inquinamento marino sono da ricercarsi nell'apporto di questi batteri in mare da parte dei Ruscelli, Riovivo e Seivoci. Il primo cittadino, Angelo Sbrocca, già in passato aveva emesso un'ordinanza con la quale inibiva lo sversamento di scarichi reflui civili ed industriali nell'albeo dei torrenti che attraversano Termoli. E da Palazzo Sant'Antonio venivano effettuati controlli, mediante ispezioni finalizzate ad individuare la presenza di scarichi abusivi. A causa dell'assenza di manutenzione dei corsi d'acqua e quindi della vegetazione esistente che ha impedito l'accesso da parte dei tecnici, i controlli non sono stati più eseguiti. Per tale motivo la Giunta ha più volte sollecitato la Regione ad effettuare la pulizia degli argini e dei letti dei torrenti. Si svolgerà il 17 settembre in Molise un incontro istituzionale alla presenza del Ministro per il Sud Barbara Lezzi al fine di chiarire l'impiego dei fondi europei 2014-2020 in scadenza a fine anno. I finanziamenti saranno volti a consegnare alle realtà del mezzogiorno progetti per infrastrutture pubbliche, bonifiche e servizi alla collettività. L'ambito territoriale e sociale di Venafro ha pubblicato l'avviso inerente la concessione di voucher per donne in età lavorativa. Un'opportunità finalizzata ad incrementare l'occupazione femminile attraverso la conciliazione dei tempi della famiglia con quelli del lavoro. L'ambito territoriale e sociale di Venafro ha pubblicato l'avviso inerente l'erogazione di voucher per l'acquisto di servizi di cure e assistenza alle persone anziane non autosufficienti che sono presenti all'interno di un nucleo familiare. L'intervento, per la cui attuazione sono stati destinati 74 mila euro all'ambito di Venafro, intende sostenere le donne che hanno in carico lavori di cura familiare per favorire la loro partecipazione a percorsi di politica attiva in ambito lavorativo. I dettagli dell'avviso sono stati resi noti in questa intervista da Angela Maria Tommasone, assessore comunale e presidente dell'ambito sociale di Venafro. Ci sarà la possibilità di accedere tramite il sito del Comune e di scaricare anche la domanda per questo beneficio che riceveranno le donne inattive ed inoccupate. Si tratta di persone con l'età compresa tra i 18 e i 65 anni, fino ai 65 anni, che possono comunque accedere a questo beneficio attraverso i voucher. Voucher che vengono poi concessi dalle cooperative accreditate. In che cosa consistono? Praticamente possono scegliere queste persone, sempre persone che assistono i malati, i disabili, in casa, proprio per evitare anche che vadano comunque strutture. È una cosa importantissima perché c'è la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Si può chiedere i voucher per la pulizia della casa, oppure per il disbrico delle pratiche esterne, oppure anche per la preparazione dei pasti, o anche a livello di assistenza proprio infermieristica. Io credo che questo, insieme ad altre cose che stiamo facendo nell'ambito, siano veramente essenziali, perché il nostro territorio, da Sesto Campano a Montenero-Valcocchiara, ha un invecchiamento molto alto, per cui molte persone, insomma, sono disabili e hanno bisogno di assistenza. Diamo la possibilità a queste donne che non sono occupate, ma anche a quelle occupate, a dire la verità, di poter accedere a questi servizi. Domani a Riccia ci sarà un convegno sulla musica degli anni 60 e 70, per ricordare il cinquantesimo del 1968. La manifestazione si svolgerà nella sala convegni dell'ex convento dei Cappuccini, in piazza Umberto I. Le emittenti molisane sono fortemente penalizzate dalla Graduatoria Nazionale dei Contributi Economici. L'Ordine dei giornalisti contesta i requisiti. Il 18 settembre la protesta degli editori raggiungerà la capitale. Consigliere Cimino, com'è la situazione riguardo la graduatoria alle emittenti locali? La situazione per il Molise è discriminante assai, perché sostanzialmente tutte le emittenti regionali che ne hanno fatto parte sono tagliate fuori dal contributo che rappresenta la sussistenza per le nostre emittenti televisive. Qua dobbiamo fare una battaglia unica, con un'unica proposta, che debba annoverare a sé il sindacato, l'Ordine dei giornalisti, gli editori e tutti gli operatori del comparto legato all'editoria radio-televisiva. Una proposta che io mi permetto di esternare dal mio punto di vista, vale a dire, noi contestiamo i requisiti privatistici della graduatoria. I primi 100 che sono un numero che discrimina il Molise e soprattutto la posizione della nostra regione in merito alle altre regioni del sud. Non possiamo paragonare il modo di fare TV nel Molise con le altre realtà per un motivo demografico, per un motivo legato al territorio, per un motivo legato al clima del nostro territorio e per la popolazione. C'è un conto in mettere un ripetitore nel Molise, un conto in metterlo in Puglia. Sono costi diametralmente opposti. Per questo motivo l'appello dell'Ordine nazionale dei giornalisti insieme agli editori è quello di rivolgerci alla nostra classe parlamentare per trovare una risposta congrua alle esigenze del territorio. Altrimenti questa emittente, come altre, rischia di chiudere ed è un peccato. Quindi il 18 sarete a Roma nella manifestazione generale sotto il Ministero Elmise? Io sono stato sempre vicino alle emittenti e ai giornalisti del Molise. Quindi il 18 starò al Mise insieme a TLT, insieme agli ascoltatori e ai telespettatori di queste emittente per protestare contro una graduatoria provvisoria che è deleteria per il Molise e per il diritto all'informazione. Noi possiamo innanzitutto mandare una nota che faremo congiunta io e il collega Santimone. Potremmo chiedere un ordine del giorno all'interno del Consiglio Nazionale dell'Ordine, però ahimè entro il 18 settembre sarà difficile. Sono 16 migranti ospitati al centro SPAR di Bosco Mazzocca Riccia, ragazzi provenienti dall'Asia e dall'Africa con alle spalle tristi storie personali e familiari. Diverse le attività e i servizi già attivati in favore degli ospiti stranieri, tutti finalizzati alla integrazione tra le attività intraprese dagli stranieri e la pulizia del bosco attorno a Riccia per rendere più accogliente e fruibile l'area picnic e sistemando i servizi esistenti. Il ricercato dell'Istituto Neuromed ha analizzato attraverso un campione di 5.000 persone il rapporto tra l'alimentazione mediterranea e la mortalità. La dieta mediterranea lunga la vita delle persone. Questo il segreto della longevità per i ricercatori del Dipartimento della Neuromed di Pozzilli che hanno condotto ed analizzato uno studio sul rapporto tra quella che è l'alimentazione mediterranea e la mortalità utilizzando a campione oltre 5.000 persone tutte di età superiore ai 65 anni. I risultati raccontano di una realtà molto chiara e positiva. La dieta mediterranea resta un autentico scudo salvavita. È infatti in grado di ridurre sensibilmente il rischio di mortalità anche nelle persone meno giovani anche oggi che è frutto dei vari cambiamenti intervenuti nel corso degli anni a causa della presenza nelle nostre cucine di tanti prodotti della grande distribuzione alimentare e di uno stile di vita sicuramente diverso da quello dei contadini del Mediterraneo. Il modello tradizionale di dieta è ricco di frutta, verdura, pesce, legumi, olio d'oliva e cereali è decisamente caratterizzata dall'uso di poca carne e latticini ed un consumo moderato di vino durante i pasti. Tutto questo si traduce secondo i dati raccolti in una importante riduzione del 25% della mortalità per tutte le cause con vantaggi notevoli in particolare per la mortalità cardiovascolare e cerebrovascolare. Tra gli alimenti che offrono una maggiore protezione si possono individuare quelli con una elevata presenza di grassi monoinsaturi largamente presenti nell'olio d'oliva ma anche il consumo moderato di alcol. I dati lanciano un messaggio importante in termini di salute pubblica commenta il direttore del Dipartimento Giovanni De Gaetano. Con l'invecchiamento progressivo della popolazione mondiale sappiamo che tra qualche anno gli over 65 rappresenteranno circa un quarto della popolazione europea. Ecco perché è necessario identificare quei fattori modificabili che possano garantire non solo lunga vita ma anche una qualità di vita accettabile. Siamo ad alcuni appuntamenti all'ex Gil di Campobasso in serata direttamente da Londra Closic Party con la console Eddie Piller domani pomeriggio invece a Roccavivara l'architetto Franco Valente parlerà di Santa Maria di Canneto sui grandi cammini del Medioevo e spazio adesso alle previsioni del tempo. Cielo prevalentemente stellato dalla sera sulla regione le temperature sono comprese tra i 18 gradi di Campobasso e la massima di 30 termoli ventilazione sud-occidentale calmo il mare adriatico soleggiato domattina sulle due province valori climatici in leggera flessione venti meridionali Partirà sabato 15 settembre il campionato under 19 di calcio per le formazioni di serie D Agnonese Campobasso e Isernia sono state inserite dalla federazione nel Gironeia assieme a club abruzzesi e marchigiani un raggruppamento questo a 16 squadre passiamo al Cus Molise che punterà forte sul settore giovanile sia nel calcio a 11 che nel calcio a 5 anche nella prossima stagione sportiva al palazzetto dell'Ateneo a Campobasso i bambini inizieranno le attività tecniche dal 10 settembre gli allenamenti ci saranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 16 alle 18 per la nuova stagione il Cus ha rinnovato l'affiliazione con il Milan Academy siamo in chiusura domattina a Capracotta una sala del locale Ciclub sarà intitolata al Cavaliere Giovanni Paglione primo presidente del sodalizio sportivo del paese e socio fondatore del club nel lontano 1914 e con questa notizia chiudiamo il nostro notiziario grazie e arrivederci grazie